Buongiorno a tutti, oggi è il 28 marzo, sono le 10 ed è passato da 5 minuti praticamente il dato che aspettavamo tedesco alle 9.55 ovvero la variazione della disoccupazione in Germania. E' andato bene, perché il previsto era a 10.000 e invece è sceso a 4.000, per cui ottimo. E che cosa è successo sul mercato tedesco? Assolutamente niente, nulla di particolare, una candela come tante altre. Passata questa prima impasse, sappiamo che in questo giorno di quasi ferie, perché domani non saranno aperti né i mercati europei né il mercato americano, sappiamo ancora che abbiamo l'IPP italiano alle ore 12, che potrà darci fastidio tra circa 2 ore, e successivamente alle 13.30 il PIL statunitense, per cui dobbiamo fare attenzione ancora a queste ultime insidie, diciamo, in modo da poter fare trading tranquillamente. Ieri tra l'altro, tra le altre cose che non stanno funzionando su TradingView, aggiungiamo il fatto che qui abbiamo perso due candele, infatti i future hanno continuato ad andare avanti, mentre invece non si sa perché gli indici non riportano due candele, si passa direttamente, guardate qua in basso, si passa direttamente dalle 16.15 a quella delle 17, per cui fate attenzione ai conteggi. Se infatti prendiamo da qui a qui sul DAX abbiamo non 35 barre, ma ne abbiamo 37, che fortunatamente per noi non è un grosso problema, però meglio saperlo, ok? Su DAX, come vi dicevo, avremmo potuto tranquillamente continuare a salire, così stiamo ancora facendo. Per questo motivo facciamo ancora attenzione a che cosa? Mettiamo due allarmi. Il primo allarme qui ha 18.466,50. 18.466,50 e ci mettiamo short, ok, per un possibile vincolo ribassista e poi andiamo a vedere se hanno voglia invece di ritornare qui sopra, qui si può mettere l'allarme, per vedere se ci sarà un altro vincolo a rialzo per l'inverso. In questo caso al massimo da monitorare è quello a 18.511 e 17, 511 e 17 è quasi azzeccato. Long. In questo caso abbiamo già ingabbiato le due possibilità. Perché? Perché il decimo T-3 inverso ha oltre le 45 e 44 barre e non va, quindi da qui è iniziato comunque un nuovo T-3 inverso, che sia l'undicesimo o che sia quello che vuole, un nuovo T-3 inverso, se andremo qui sopra prima delle 21 barre, avremo un vincolo rialzista e quindi potremo andare a cercare nuovi massimi. Mentre invece, da qui, da questo minimo, anche in questo caso, possiamo ancora essere a 42 barre, effettivamente, soltanto quindi dalle 10.4511, se dovessimo andare sotto questo minimo, il minimo assoluto di stamattina, anzi scusate di ieri, alle 18.466 punti, a quel punto potremo valutare con quella cortezza del tempo un eventuale short. Facciamo sempre attenzione agli short perché siamo vicini alle medie mobili, perché in questo momento non c'è nessun indicatore che dica che si possa iniziare a scendere e perché hanno fatto un po' di movimenti particolari, appunto, anche ieri. Non so perché gli indicatori non hanno funzionato, probabilmente anche per il problema tecnico, appunto, di trading view. Speriamo che le rimettano queste due candele perché diventa abbastanza fastidioso operare senza, per cui riaprirò altri ticket di supporto, chiedendo per piacere che si adoperino per sanare la cosa sia su DAX che ovviamente anche su MIB, perché anche qui passiamo dalle 16.15 alle 17 e mancano due candele. Tra l'altro non avevo già messo il copia e mettiamolo anche qua, giusto per ricordarcelo perché se no ci crea delle opportunità, diciamo. Su MIB, situazione similare, possiamo aver fatto 29 barre di inverso oppure 38 barre di inverso, privilegio per adesso questo tipo di movimento. Se privilegiamo questo, abbiamo trovato un massimo assoluto alla 28esima barra, 21esima no per il MIB perché minimo ne abbiamo 24 rispetto agli altri mercati, in realtà anche 23 ma in fase di tendenza ribassista mediamente. Per cui siamo a 27 barre ma possiamo tranquillamente arrivare fino alla 44esima barra di salita di inverso, quella che arriverà alle 13, se il conteggio me lo fa corretto, se no prima delle 13 perché appunto mancano due barre. E lato indice siamo ancora, qui potremmo aver avuto effettivamente una chiusura, quindi mettiamoci anche un punto di domanda qua. E vi faccio notare come anche in questo caso, a parte che ieri c'è stata una lateralità disarmante, veramente, su MIB abbiamo fatto talmente pochi tic che siamo scesi sotto i 100 tic, se non mi ricordo, tra massimo e minimo assoluti di giornata e quindi abbiamo stabilito un nuovo record di lateralità probabilmente, era da tantissimo tempo che non vedevo una giornata come quella di ieri. Soprattutto per la prima parte, poi si è un pochino rimosso, ma pazzesco. Mentre invece, appunto, qui vediamo se hanno voglia di far partire ancora un ottavo t-3 e cercare a un certo punto anche una condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di questo settimanale e di ciò che viene prima. Perché, a un certo punto, esaurito il tempo massimo assoluto, tutto quello che volete, a un certo punto si scenderà. Ok? Il tempo qui ce l'abbiamo, teoricamente abbiamo ancora altri 5 giorni di salita, se vogliamo dircela tutta. Vediamo. Intanto, di nuovo, torniamo alla semplicità. Come detto anche per Bitcoin, se rimaniamo sopra la media mobile più rapida, quella in rosso, non andiamo da nessuna parte. Continuiamo a utilizzarla anche con gli eccessi per ritornarci piano piano sopra e non si scende da nessuna parte. Si continua a rimbalzare su di essa in modo più o meno violento, qui più violento, qui meno violento, meno cruento, ma si continua ad appiccicarci sopra e a tornare sopra. Quindi, finché non avremo una violazione con un ritorno deciso verso quest'area, quella della media mobile a 200 periodi, non aspettatevi ribasso. Non ho più voglia neanche di provare dei trade, dei tecnica 2 ribassisti fino a che non vedremo questo genere di cose, anche se il gruppo ha votato per averli lo stesso e ieri uno mi è sfuggito. Mi è sfuggito pochi tic, d'accordo, penso un 25-30 tic anche meno forse su MIB, quindi veramente un'inezia, però comunque sarebbero stati interessanti da fare. Anche in questo caso, atteniamo di vedere se l'inverso ha ancora voglia di chiudere perché c'è ancora tempo di salita e a quel punto iniziamo a tenere d'occhio questo minimo per ragionare di che cosa poter fare nell'eventualità di un vincolo ribassista, eventualità che sembra molto remota da un bel po' di tempo. Diamo soltanto un'altra occhietta qui, vi dico remota perché ho già guardato il grafico a candele giornaliere. 6 barre, non si chiude con una barra rossa, dobbiamo andare su. Se proprio volessimo chiudere la sesta barra di questo T settimanale inverso, la candela di oggi deve chiudere verde, altrimenti continuiamo a salire. Chiude rossa, continuiamo a salire. Non si aggiorna al top, continuiamo a salire. Le regole dell'evoluta della ciclica sono molto semplici in questo caso. Tempo ce n'è per salire, centratura alternativa oltretutto ne abbiamo. Abbiamo questa che ci porta ad avere 9 barre più la partenza del terzo T settimanale da qui. Siamo soltanto a 23 barre di indice, quindi su 43 ci sono 20 giorni che può fare tutto quello che desidera. A un certo punto però, come già vi dicevo, andare a chiudere anche solo un mensile, trimestrale e semestrale lo farà. Vediamo entro quanto tempo complessivamente e ragioniamo del fatto che, come vi dicevo, le regole della vecchia ciclica qui saltano in termini di tempo canonici, ma se ritorniamo a una lettura dei vecchi testi, si ricorda anche che in fase di fortissima tendenza non servono più i sottocicli canonici, con i tempi canonici, a far partire altri cicli. Si abbreviano tantissimo, per cui era già messo in conto come discorso questo. Certo rende più complesso, ovviamente, analizzare i grafici, anche se nella realtà dei fatti si può, come di consueto, andare sulle durate minime e medie e massime e stabilire che da dove ci sono più candele sotto un massimo, può essere partito un altro mensile che ha le solite durate, per cui abbiamo ancora spazio per salire se proprio ne avessero ancora voglia, purtroppo. Cosa differente su DAX, ma ne parlerò eventualmente nelle analisi che verranno da domani in avanti, perché appunto con i mercati chiusi posso avere più tempo per guardare altre cose. Spero che questa analisi vi sia piaciuta, nel qual caso mettete un bel like, condividete il canale con gli amici, altrimenti l'indicizzazione non continuerà a crescere e non permetterete agli altri di avere delle informazioni scevre da sentiment, che non serve assolutamente nulla a fare trading, news che impattano a volte per poco tempo, oppure zero, come avete visto, anche se sono ottime come notizie sui grafici, anche nel brevissimo magari non cambiano assolutamente nulla, come abbiamo appena visto anche oggi, e trovate tantissimi altri esempi sempre su questo canale, con oltre 16.400 iscritti, il primo d'Italia a parlare di cicli, primo in termini di visitatori, primo in termini di numero di video e di affidabilità in questo caso. Grazie ancora per l'ascolto e auguro a tutti da domani in avanti buone feste. Arrivederci!